Dopo 58 giorni di bombardamenti, un'avanzata lenta e più volte interrotta dalla resistenza kurda e una settimana di vero e proprio assedio, i carri armati turchi sono entrati nel centro di Afrin, accompagnati dai miliziani siriani che hanno preso parte alla campagna. Secondo un portavoce di questi ultimi, l'ingresso in città sarebbe avvenuto da tre lati, ma prima che le comunicazioni fossero del tutto interrotte, le ultime fonti sul campo riportavano una disperata resistenza da parte kurda in alcune zone del centro urbano. Il presidente turco Erdogan ha comunque dichiarato conclusa l'operazione. Quello che abbiamo fatto a Jarablus, al Bab e al Zad, ora lo faremo ad Afrin e dintorni. A Jarablus abbiamo già rimandato 140.000 persone e ora anche i nostri fratelli e sorelle di Afrin potranno tornare a casa. In realtà il vero esodo di profughi dalla regione si sta verificando proprio in concomitanza dell'operazione lanciata da Erdogan. Nel cantone di Afrin, una delle poche zone ad essere rimaste in relativa pace nei sette anni di guerra in Siria, erano confluiti quasi un milione di profughi da tutto il paese. Nelle ultime ore, con l'intensificarsi dei bombardamenti, la maggior parte di loro è stata costretta a rimettersi in cammino.